lo sapevo che mi arrivava un cappello salve a tutti sono riccardo cassani quello che scrive per musica nell'ultimo numero della rivista che qui vedete mi sono occupato ampiamente di beethoven recensendo la quinta sinfonia diretta da currensis e affrontando in un articolo l'attuale possibilità di formarsi una discoteca beethoveniana di livello in vinile con la produzione contemporanea delle etichette discografiche come ho potuto appurare le possibilità di scelta per quanto riguarda le sinfonie è un po limitata per questo motivo con il direttore abbiamo deciso di fare un video per parlare delle edizioni reperibili e collezionabili in cd della nona sinfonia la nona quella famosissima con lino alla gioia quella che parafrasando billy wilder il grande regista americano se devi mandare un messaggio al mondo caro ludwig scrive un telegramma un pizzino un post it ma non una sinfonia altrimenti ti ritrovi con una composizione in tre movimenti e un gran rebelotto come finale in più se non si può davvero dire che ludwig non sapesse scrivere per le voci si può sicuramente affermare che non si interessasse minimamente della scomodità di quello che scriveva altrimenti perché avrebbe composto una marcia dove nove tenori su dieci ci lasciano le corde vocali e una parte per il soprano che se ti accorgi di quello che le poverette stanno cantando vuol dire che stanno facendo danni mi fa strano ma nel caso della nona sinfonia di beethoven sono d'accordo con il critico giuseppe verdi piuttosto che con l'entusiasta richard wagner quindi oggi quello che farò è proporvi tre registrazioni discografiche una storica una moderna e una contemporanea in cd della nona sinfonia di beethoven la scelta dell'edizione storica è assolutamente univoca per me wilhelm furt wengler marzo 1942 dal vivo alla filarmonie di berlino solisti tila brim elisabeth höngen peter anders e rudolf watzke l'orchestra naturalmente berliner philharmoniker il coro è quello di bruno kittel a 74 minuti di durata è la più lunga delle none che vi proporrò oggi ma tutto si può dire di questa interpretazione forché sia lenta o pesante per anni venduta come la nonna del compleanno del führer si tratta in realtà di una sorta di prova generale per l'evento registrata un mese prima rispetto all'interpretazione furt wengleriane del dopoguerra bayreuth 51 vienna 53 lucerna 54 questa del 42 è più inquieta e preda dello stato d'animo del momento solo la capacità di coesione drammatica dell'arte direttoriale furt wengleriana riesce a dare coerenza un'esecuzione capace di passare attraverso gli stati d'animo più schizofrenici per giungere a una coda finale che è una corsa dissonata verso il baratro dell'autodistruzione piuttosto che un'esplosione di gioia è un edizione quindi che consiglio agli amanti delle edizioni storiche e agli appassionati di otto volanti emozionali la scelta di una registrazione moderna è estremamente facile e telefonata siamo negli anni sessanta ed erber von karajan registra la sua seconda integrale sinfonica betoveniana con i berliner philharmoniker per deutsche grammophon solisti gundola janovitz childe russelmaidan valde mark ment e walter berry il coro è quello dei wiener singh ferrhein ancora oggi è una delle registrazioni più iconiche della storia del disco ma non credete che sia stata esente da critica la sua apparizione in particolare per il tipico suono karajan hermans un po schiacciato in fondo al palcoscenico sonoro a soffrire in particolare è il coro che resta un po lontano come in prospettiva tanto che qualche critico arguto dell'epoca arrivò a chiedersi per quale motivo karajan avesse fatto arrivare i wiener singh ferrhein da vienna a berlino per lasciarli a cantare in stazione invece di portarli in sala di registrazione è un'edizione che consiglio a tutti quelli che vogliono andare assolutamente sul sicuro come edizione contemporanea vi consiglio una registrazione in dsd e quindi in alta definizione audio registrata nel 2012 dall'etichetta olandese challenge classics il direttore è jan villendevrind i solisti sono anne marie kremer wilkete brummelströte marcel reihans e gert smith l'orchestra è l'orchestra sinfonica olandese il coro è il consensus vocalis con l'occhio rivolto ai precursori di beethoven piuttosto che ai suoi eredi the friend ci fa ascoltare una nona che riesce nell'intento di trasmetterci nonostante i secoli passati l'effetto dirompente che potrebbe aver avuto sugli ascoltatori contemporanei di beethoven tra le cose più belle di questa edizione il recitativo iniziale del baritono gertr smith e la scorrevolezza incantata del movimento lento con una durata complessiva di poco più di 63 minuti the friend usa dei metronomi che sono molto vicini a quelli originali beethoveniani a chi la consigliamo questa registrazione a tutti quelli che se non è filologica è sbagliata ma anche a tutti gli altri detto questo lancio il cappello al prossimo critico